Ciao a tutti e benvenuti al mio nuovo canale YouTube, io sono Martina, volevo fare una piccola introduzione su quello che sarà il canale. Come dice il logo stesso, il mio canale vuole essere proprio un condividere con voi vari aspetti della mia vita, quindi dot 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 with Marty. Andremo quindi ad avere Yoga with Marty sicuramente, quindi andrò a fare delle classi online, dei piccoli tutorial per aiutarvi nella pratica a casa, però ci sarà anche Travel with Marty, Eat with Marty e così via. Quindi proprio andare a coprire un po' la mia vita a 360 gradi. Spero che vi piaccia, se volete iscrivervi mi fa piacere e se volete magari lasciarmi un commento su quello che vorreste vedere in questo canale, proverò ad ascoltarli. Grazie mille per essere passati anche solo a vedere questo video. Buona giornata!